L'operazione Odena rappresenta uno spaccaggio estremamente significativo dell'azione di contrasto contro le modalità comunicative delle organizzazioni criminali, in questo caso di stampo camorristico. Da una parte l'attività massiva di tentativo ripetuto in diverse carceri italiane, di introduzione di apparecchi di comunicazione, di telefoni, ma anche di droghe e armi che consentono in questo modo agli affiliati detenuti, anche ai capi molto spesso, di poter comunicare verso l'esterno. Dall'altro è anche un aspetto molto significativo, più innovativo, legato alla comunicazione social e all'uso quindi di questi profili social attraverso i quali possono essere esaltati modelli di ispirazione criminale, di stampo in questo caso camorristico, che rappresentano una modalità nuova, ma anche lì estremamente preoccupante da combattere perché fanno comunque generare all'interno dell'organizzazione un senso di onnipotenza che va comunque combattuto.